Io l'ho sempre sospettato dall'inizio che lì era stata tutta la fabbocci perché mia figlia lì è andata a giocare con la figlia, con l'amichetta del cuore d'Oriana e anche quando la bambina ha risposto nell'interrogatorio io ho subito sentito che la bambina nasconde qualcosa, cioè difende la madre. Così Domenica Guardato, la mamma della piccola Fortuna Loffredo, commenta quanto dichiarato da Raimondo Caputo, il presunto orco di Chicca, che accusa la sua compagna Marianna Fabbozzi dell'uccisione della bimba e anche di quella del piccolo Antonio. Lo ha sempre detto Mimma Guardato che quella donna c'entrava, era colpevole della tragica fine di Chicca. Io lo sento che lei c'entra sull'omicidio di mia figlia, l'ho sempre sospettato dall'inizio. Intanto Mimma si rivolge direttamente a Caputo dicendogli ora racconta tutta la verità. Marianna io non so perché me l'ha ammazzata e per quale sia stato il motivo a ammazzare una bambina di sei anni. Io spero che si faccia luce più presto e che Raimondo Caputo mi dice tutta la verità come sia andata questa cosa qui a avere ammazzato mia figlia. Intanto dal carcere di Benevento l'avvocato della Fabbozzi dichiara Marianna mi ha ancora una volta confermato che Titò con la morte di Fortuna non c'entra davvero nulla.